Non ti deve preoccupare perché una mano il tuo amico quante la dà sempre. Faccio e dico tutto quello che mi dici di fare e di dire. No, 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 no. Non ho bisogno di una mano per capire quando ce l'ho di dietro. Fottutissimo ladro di voi. Ma che cosa vuoi da me? Niente. Pensavo solo che potevamo andare insieme a Messa Verde. Ma è possibile che di Messa Verde ti ricordi solo la banca? No, c'è anche un posto dove puoi entrare e sederti a mangiare quando guardi davanti a te. La banca. Oh, porco mondo, chi te l'ha detto? Ma è da sicuro che Messa Verde è soltanto il principio. I due saremo qua e Johnny, grandi specialisti in banca. Meglio Johnny e Johnny, capisci? È più americano perché poi andiamo in America dove lì ci sono banche come fossero punti. Sai, in California, Colorado, Kansas City, Texas, Austria. Vedi, tu pensa per un momento al futuro che ci abbiamo davanti. Io penso a quel treno che ci abbiamo di dietro. Ehi, ma vedetevi di dietro! Ehi, ma vedetevi di dietro! Ehi, ma vedetevi di dietro!